Dai prodotti di qualità all'ospitalità diffusa, Morigerati continua a fare del suo territorio un'occasione di turismo e sviluppo. Il 12 e 13 ottobre verranno presentate le iniziative che, ruotando attorno ai prodotti tipici, daranno nuova consistenza agli arrivi in loco, continuando quel discorso che ha portato a conoscere Morigerati come paese albergo. La giornata si aprirà con la presentazione, ad opera del docente universitario Pasquale Persico, di un documentario sull'esperienza di De Concilis. Il viticoltore cilentano ha avviato infatti una produzione di vino bianco proprio sui terreni di Morigerati e l'anno prossimo si procederà per la prima volta alla raccolta e alla vendemmia, sfruttando tutti e sei gli ettari su cui De Concilis ha operato. Questa esperienza ha già portato a Morigerati ben 150 persone interessate a visitare il vigneto e la produzione in corso. Altri invece già stanno prenotando per la seconda iniziativa di cui si discuterà in questi due giorni. Si chiama Olio Fai da Te ed è un progetto che unisce l'ospitalità diffusa con la possibilità di tornare a casa con un'esperienza in più e un prodotto sano, l'olio delle olive locali. L'iniziativa, che già viene portata avanti da tre anni, si svolgerà tutti i weekend dall'11 ottobre al 17 novembre. I turisti verranno a Morigerati e al prezzo di 110 euro riceveranno vitto e alloggio. Potranno inoltre accedere agli oliveti comunali di località Serracchi, raccogliere le olive e partecipare alle varie fasi della produzione dell'olio che poi potranno portare a casa. L'iniziativa, quanto mai attuale in questi tempi in cui chiunque preferisce conoscere la provenienza dei cibi presenti sulla propria tavola, ha già ottenuto un discreto successo e sono arrivate le prime prenotazioni da Roma. Essa si inserisce nel progetto europeo che ha visto la collaborazione tra il CNR, il Comune di Morigerati, l'azienda Nicolangelo Marsicani, il GAL Casa Castre e la Facoltà di Agraria dell'Università di Portici e che si è occupato della valorizzazione degli oliveti. Nell'ambito della due giorni, infine, verranno anche inaugurati due centri sociali realizzati a Morigerati e Sicilì.